Panatè, guida ai forni a legna nella provincia di Cuneo. Il volume tascabile, edito dai libri della bussola della Gemma Communication, è stato realizzato da Giovanna Foco, giovane giornalista cunese. Questa guida è nata nel 2003, all'epoca lavoravo fuori regione. Quando tornavo a Cuneo, la mia meta del sabato era una panetteria nella Valle Stura. Probabilmente era una meta certa, perché in quel periodo avevo incertezza nelle idee e dunque cercavo un luogo che mi desse la sicurezza di quel dove. Ad un certo punto ho pensato che quante persone come me avevano probabilmente incertezza di cammino. L'idea di scoprire i forni a legna era anche per dare voce a coloro che non avevano il coraggio di dire non ho una meta e io gliel'ho proposta e questo è stato l'inizio. In 80 pagine la guida offre una panoramica completa degli ultimi forni a legna che sono rimasti in provincia di Cuneo. 30 schede per 30 forni che l'autrice ha raggiunto, fotografato, analizzato e assaggiato. Tutte divise in due parti. Una sintetica dedicata all'ubicazione della panetteria, ai tipi di pane che vengono realizzati, alla legna che viene usata. Poi la seconda parte è dedicata a quella che io definisco la parte analitica, cioè il fornaio che racconta di sé. Uno di questi mi disse, sa signorina io sono privilegiato. E io sì, come privilegiato? Non si lamenta dei suoi erari, no, perché io vivo due volte. Quando voi vi svegliate, io ho già vissuto. Una guida particolare, realizzata in un modo insolito, come altrettanto originale, è la distribuzione. La distribuzione la sto curando io con il mio pastore tedesco. Giriamo. È stato molto impegnativo convincerla a dover condividere il bagagliaio con lo scatolone dei libri. Però è stata una scelta per tenere bassi i costi della guida. La guida costa 5,90 euro. La guida costa 5,90 euro.